Ed eccoci qui pronti, prontissime in compagnia del vostro Diablotex per continuare su Mortal Kombat 1 modalità, invasioni, in versione, Playstation 5 il gioco, quindi possiamo continuare anche perché qui ragazzi ne abbiamo da fare, addirittura si è sbloccata anche quest'altra, si è sbloccata anche il portale d'accesso qui vabbè noi continuiamo a fare quest'isola qui, poi vediamo di pian piano di proseguire avanti da qui siamo arrivati, da qui si continua giustamente ma vabbè lasciamo tutto così al momento lasciamo tutto così al momento, vai andiamo subito con il prossimo scontro che adesso ci sarà una sorpresa se ricorderò ragazzi perché non so, vabbè comunque adesso iniziamo, vabbè iniziamo si continua no che si inizia, vai di livello 3, noi siamo di livello 5 quindi al momento posso farne a meno di livellare però neanche più di tanto perché insomma da fare qui ne abbiamo eh, ne abbiamo da fare sai che mi infastidisce abbastanza? mi infastidisce abbastanza qui? ah no? ah come cameo lei usa sub-zero, beh giustamente come cameo usa sub-zero, va bene guarda adesso, ah vabbè ho capito va, ho capito in che punto ora ti colpirò in una maniera talmente aggressiva e non manca tanto eh, tranquilla perché se riesco non manca tanto fantastico eh, ancora ancora? ancora? ora ci penso io, ci penso io ci penso io a te ciccia e beh e beh non cade, no non vuol cadere non demorde? eh no vediamo un po' e andiamo ragazzi e andiamo e andiamo ti sei fatta male per caso? ah ah, ho imparato la fatality eh almeno una delle fatality, comunque va bene comunque va benissimo allora a questo punto dove si va ragazzi? son venuto da qui, giusto? sì, son venuto da qui, giustamente ok si prosegue e si va avanti speriamo che non ci siano brutte sorprese cos'è qui? un'altra torre, vabbè vabbè ah ah eccole un'altra vediamo un po', vabbè tre piani e di che livello? livello 4 vabbè proviamola dai proviamola comunque sono di livello 5 qui livello 4 quindi bisogna stare bisogna stare un po' attenti secondo me ragazzi bisogna stare un po' attenti però anche i nemici devono stare attenti non è che devo stare attento solo io insomma eh perché comunque l'energia e la statistica iniziano a raggiungermi un po' no? livello 5 livello 4 non è che siamo non è che sto in uno stato molto avanzato diciamo vabbè comunque facciamo qui uh e adesso? e adesso saranno scontri molto molto importanti secondo il mio punto di vista saranno scontri abbastanza importanti ragazzi eh sì eh sì saranno degli scontri da da gestire eh sì spero di gestirli al meglio perché e adesso? andiamo andiamo ora l'ho imparata quindi eh l'ho imparata ragazzi eh wins sì eh ebbè vai sali di livello sub-zero sali di livello sub-zero su non facci non farci perdere troppo troppo tempo ma anche troppo entusiasmo su dai neanche troppo entusiasmo io voglio voglio un attimino insomma ah e allora vabbè e allora vabbè cosa facciamo? eh non lo so vediamo questo qui ragazzi bisogna sempre stare attenti perché se ricordate para molti colpi eh sì purtroppo ne para molti ne para molti e quindi dobbiamo stare un po' attenti ai 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 vediamo un po' che bello che bello che bello eh ho sbagliato ho sbagliato il tempo vabbè non è andata la fatality ma riproveremo più avanti non vi preoccupate anche perché abbiamo un certo limite di tempo per per fare le fatality quindi poi devo raggiungere tutti i livelli con tutti i personaggi per sbloccare le loro cose vabbè una cosa che ha dell'assurdo ma che bisogna fare bisogna farlo ragazzi e sicuramente lo farò e sicuramente io amo fare queste cose quindi sbloccare l'abbigliamento le skin allora innanzitutto adesso cerchiamo di mettere in regola la questione qui eh cerchiamo di mettere in regola la questione vediamo un attimino eh dai su dai maremma vediamo se riesco con la fatality eh eh sì è andata ragazzi è andata è andata in grande stile fatality ebbè sub zero wins ok 100 oggettoni valuta 100 crediti stagionali e 100 monete corronte vabbè abbiamo tre tipi di valuta bene bene allora dove sono dove sono sono venuto da lì no da qui sono venuto sì vediamo avanti cosa cosa spunterà di bello eh non lo so ragazzi qui oramai diventa tutta una sorpresa quindi livello 4 livello 4 qui iniziano ad alzare un po' la posta ragazzi iniziano un po' eh vogliono fare i balordi ma come è giusto che sia quindi se vogliono fare i balordi per me va anche bene ci mancherebbe va anche bene ok vai maremma stai calmo devi stare calmo devi stare calmo ok via ancora ancora e ragazzi senti il dolore eh lo senti lo senti il dolore sì lo sente due round cos'è questa storia ho detto che avanti avremo sempre delle bellissime sorprese voi non non credete a quello che che dici il vostro diablo tex eh sembra che quindi sono due round in pratica sono due round ok per me va bene ci si diverte un po' di più e sono punti in più che si che si ottengono no voglio ben sperare che sia così ancora maremma ragazzi adesso diciamo che si sta facendo un attimino valere il nostro avversario eh un attimino non tanto eh quindi vediamo un po' ok benissimo benissimo ancora dai e anche a te ti tocca la fatality bello e anche a te ti tocca e ti tocca di diritto ci mancherebbe ci mancherebbe ti tocca di diritto non sei così grosso eh ma no in effetti non era molto skin di Kung Lao talismano non comune talismano sfera del caos senziente attrezzatura Kung Lao leggendario ok e 100 crediti stagionali mi piace i miei premi mi piacciono ragazzi devo essere sincero livello 6 ottimo 5 punti ma non mi puoi dare qualche punto in più qualche punticino in più niente vediamo un po' il talismano qui tanto sto sbloccando sempre nuovi talismani 35 danni da spinta al momento no al momento me ne resto così come sto però vado a mettere qualche punto agilità e salute va questa volta voglio agire in questo modo questa volta voglio agire in questo modo va bene torniamo dietro e si continua e si continua si ragazzi abbiamo ancora tanta strada da fare su questo primo percorso stagionale via tanto oramai qui andando avanti sono di livello 4 sono di livello 4 adesso gli avversari bene un po' di agilità ho inserito perché ok ok benissimo molto molto bene si bene bene si dai però dai che bello ragazzi la distanza è quella giusta la distanza è quella giusta la distanza è quella giusta ragazzi che colpo e che fatality e che fatality ragazzi livello 14 per quanto riguarda il profilo principale ma io credo che poi lì eh qui ragazzi poi arriveranno dei gradi no io immagino perché lì vedo vedo un po' vabbè comunque dove si va adesso possiamo andare sia di qui è lunga la strada non è che sono piccoli da fare questi stage e possiamo andare anche di qui credo vediamo un po' e infatti modificatori anche qui lei di livello 4 va più che bene va più ma forse ho la chiave per aprire dopo torniamo un attimo dietro ragazzi eh torniamo dopo questo scontro torniamo un attimo dietro e non me ne volete insisti insisti va bene se vuoi insistere per me non è un problema eh come vedete anche l'agilità di subzero è aumentata ma aumentando giustamente i parametri è normale che aumenta tutto bene andiamo finisce e beh eh wins sì direi direi proprio di sì ragazzi direi proprio di sì allora fermi tutti un po' di punti esperienza ok no non è questo forgia conferma perché devo vedere se qui ho la chiave come uno scontro improvviso ma sono arrivato adesso sono arrivato adesso vabbè è bella questa cosa qui degli scontri improvvisi comunque ragazzi è veramente molto molto bella sì anche i pipistrelli che arrivano vabbè anche i pipistrelli qui che sanno il fatto loro e beh ci mancherebbe ci mancherebbe vediamo un po' ah benissimo benissimo andiamo andiamo uh ma stai buona ma quanti ne sono quanti ne sono ragazzi ditemi un po' voi ma quanti ne sono ne sono abbastanza ne erano uno scontro improvvisato va bene va bene eh subzero wins via andiamo flawless victory vai talismano comune talismano sfera oscura senziente bene andiamo avanti perché credo di avere la chiave per aprire il cancello qui cancello chiuso avrò la chiave dite chiave ah no credevo di averlo ragazzi vabbè colpa mia comunque torniamo avanti non vi preoccupate gioco bellissimo bellissimo poi questa modalità questa modalità ragazzi l'han messa per me sono convinto e sono convinto che questa modalità è stata messa qui per diablotex hanno detto a lui piace livellare far queste cose quindi infatti hanno ragione hanno fatto anche molto bene perché hanno fatto veramente molto molto bene dove si va ma ho fatto un'altra strada per caso datemi tempo di vedere una cosa qui un altro scontro vabbè un altro scontro vabbè sono punti in più che arrivano ragazzi sono punti in più che arrivano tranquilli sono punti in più che arrivano non è un problema stai calmo sarai solo oppure arriverà qualcuno poi arriverà qualcuno non so vediamo e ti finisco alla grande bello ti do quello che ti meriti ti meriti questo ti meriti solo questo ottimo così via talismano non comune corazza magica vabbè poi vediamo più avanti vedremo a cosa serve adesso andiamo avanti andiamo avanti ragazzi su dove era no sto andando dietro vabbè ma non c'è un per ingrandire per vedere la mappa dall'alto in modo che uno si regola dove è andato dove è stato vabbè non fa niente vai tanto girare piace un po a tutti no allora lì possiamo andare però inarrestabile via si entra direi proprio di sì direi proprio di sì ragazzi ho visto anche già delle nuove torri ho visto delle nuove torri ragazzi lì eh eh sì le ho viste già e lui para tutto giustamente lui para tutto vabbè tutto tutto no ragazzi perché comunque poi ogni tanto lo becco e sente abbastanza dolore quindi vediamo un po' benissimo benissimo sì mi sto infastidendo abbastanza devo essere sincero eh perché sta esagerando adesso adesso si va nella fonte di esagerazione che non va bene e adesso ah ok volevo farti la fatality ma va bene così insomma avrei voluto disintegrarti con la mia fatality però va bene così dai diciamo che accettiamo anche questa allora adesso possiamo andare sia di qui che di lì vediamo di qui cosa abbiamo eh vediamo un po' allora andiamo di qui prima tanto abbiamo sbloccato andiamo prima da questa direzione mamma mia un'altra torre livello quattro quattro piani tutto nella norma tutto regolare bellissimo bellissimo ragazzi vediamo un po' abbiamo anche un intermezzo di una prova di forza abbiamo anche un intermezzo che spero di farne il miglior dei modi perché giustamente fight via non è che mi spaventi eh non mi spaventi affatto io sono di livello 6 adesso sarò sempre un passo avanti a voi anche se a volte sarà complessa anche la situazione però va bene va bene a volte la situazione sarà anche bella complessa eh sì vai facciamogli capire un attimino chi comanda ebbè andiamo andiamo va bene così ragazzi va benissimo va benissimo sub zero ebbè direi e direi di sì ragazzi quindi cameo ah ho sbloccato il cameo di kung lao ok bene ci piace ci piace ragazzi o almeno a me piace a voi non so va bene sbloccare il cameo va anche bene ci mancherebbe ci mancherebbe finiscila perché potresti infastidirmi e così non va bene eh no e così non va affatto bene non va affatto bene bello bello per modo di dire poi vediamo un po' ah ah va bene ok sì stai calmo stai calmo stai calmo stai calmo ciccio basta e andiamo e andiamo eh sub zero wins insomma insomma ricompense sfondo combat hard card eeeh ok via andiamo ho sbagliato ragazzi ho sbagliato da hard a card insomma ce n'è ce ne passa insomma però va bene così ecco vediamo adesso qui sarà eh ma ho detto io che eh no è andata male per un pizzico è andata male mi dispiace sub zero eh mi dispiace non doveva andare così mi dispiace vabbè si continua l'importante è portare a termine la fantomatica torre e beh la torre ragazzi bisogna portarla per forza a termine non so cosa ne pensate voi ma io devo vincere anche questa battaglia anche perché nelle torri non possiamo mettere riprova ma bisogna rifare tutto da capo quindi non bisogna scherzare qui eh non bisogna scherzare affatto eh no ok vai devo farti la fatality e beh una volta devo beccarti una volta devo beccarti ciccio una volta devo beccarti mi dai un fastidio come personaggio che veramente non immagini non lo immagini fantastico oggetto chiave chiave di madame madame abo combat card in primo piano comune ok validi ok crediti stagionali gettoni coronte via no no giochiamo un altro po' ragazzi giochiamo un altro po' si si andiamo un altro po' avanti con il gameplay non vi preoccupate andremo avanti un altro pizzico non so cosa mi attende ah ok combattimento singolo bene combattimento singolo ragazzi benissimo fight via io credo che con Sub-Zero te la vedrai molto male ciccia penso proprio di si penso proprio che ti andrà molto molto male anche se noto una certa resistenza del mio avversario noto una certa resistenza però vabbè io ho più resistenza di lei però e questa è la cosa fondamentale via ancora ancora benissimo vediamo un po' ed eccoci qui ragazzi presenti con la nostra super fatality e beh ci mancherebbe ti distruggo forse non hai capito nulla ti distruggo Sub-Zero wins vai continua ho visto un forziere abbastanza gigantesco qui eh guardate qui ragazzi vabbè gigantesco un po' come gli altri ok la chiave decorata l'abbiamo ottenuta quindi ritiriamo il premio talismano non comune talismano sfera magica autoguidata ma non ne avevo già uno vabbè comunque reliquia non comune fiasca degli anziani della furia colori baraca ok attrezzatura bene abbiamo ottenuto qualcosa qui la strada è conclusa quindi ora si va dall'altra parte ragazzi si va dall'altra destinazione andiamo dall'altra destinazione non è un problema anche se adesso ci comparirà qualche scontro casuale ah no fortunatamente no quindi andiamo direttamente sullo scontro per la strada principale ma che bello ma che bello fight eh certo combattiamo via se vogliamo combattere io sono comunque pronto eh sono comunque pronto bello bello è un parolone ma comunque va bene ok dai però su e ora ti finisco come dico io sì il finale te lo do io un bellissimo colpo di grazia come si deve e ci siamo divertiti eh eh sì eh sì e ci siamo divertiti al punto giusto vediamo un po' bene vedete lì ragazzi nella scheda personaggio principale in alto a tutto dove c'è l'icona lì compare come se un medaglione di grado 1 quindi arrivato a un certo livello secondo me lì si espanderà nel senso che metterà dei gradi come dei segni dei simboli non so ho questa la testa mi dice così insomma via si combatte anche qui ma lì abbiamo un'altra torre maremma ragazzi maremma lei come cameo a scorpion e beh giustamente giustamente vediamo un po' dai però su andiamo no non va bene non va bene non va bene non va affatto bene posso distruggerti con eleganza con eleganza aspetta un attimino ecco qui con massima eleganza ti mando al tappeto ed è giusto che sia così perché deve essere così deve essere così via livello 16 per quanto riguarda la scheda personaggio cioè la scheda giocatore non personaggio scusatemi andiamo adesso comparirà qualcuno sicuramente strano livello 5 ragazzi resistenza 3 nemici di che cosa stiamo parlando qui si aumenta qui si aumenta bisogna veramente ora prepararsi al meglio a questo si chiama pupillo il genio pupillo ragazzi vabbè fantastico abbiamo il pupillo eh il pupillo di mortal kombat vuoi fare una rissa con me maremma ragazzi questo è aggressivo questo è questo è veramente aggressivo come come la mettiamo la situazione qui la situazione come la mettiamo qui la mettiamo che forse ci è andata bene che forse è andata bene qui per il primo avversario adesso vediamo il secondo e il terzo vedremo ma no ma veramente non ripristina energia qui stiamo scherzando ma stiamo scherzando ragazzi non ci credo vediamo ecco qui ci manca solo lui a darci problemi strano che non sta parando molto maremma eh non so se riesco qui non so se riuscirò ragazzi ce l'ho fatta ci sono riuscito ci sono riuscito però fa capire che la situazione sarà lunga da fare qui è anche bella difficile quindi eh sub zero wins eh sì cosa mi dai che premio abbiamo qui vediamo un po' eh che ne so adesso vediamo livello 7 ottimo allora sicuramente metterò un po' di salute adesso eh eh sicuramente andiamo ad espandere un po' la mia salute perché ne abbiamo bisogno sì ragazzi e anche l'attacco facciamo così via ho assegnato i punti la salute sì ci voleva ragazzi ci voleva la salute anche livello 5 4 piani vabbè dai proviamo a fare questa ragazzi chiuderemo il gameplay su la proveremo una volta in caso di sconfitta chiudiamo il gameplay e si riprova nell'episodio successivo livello 5 4 piani eh qui sarà sarà molto importante sarà importante però sono sempre di due livelli avanti anche se non bisogna abbassare molto la guardia perché questi due livelli non è che sono due livelli ragazzi e non è che abbiamo vita infinita e quindi sicuramente la mia resistenza è molto superiore a quella dei nemici quindi va bene così insomma è molto superiore sicuramente ok via il primo piano se lo stiamo togliendo di mezzo eh diciamo andiamo bellissima la fatality ragazzi bellissima bellissima la fatality di subzero ottimo così 100 monete corronte andiamo avanti secondo piano eh sono 4 piani ma più avanti aspettatevi anche 8, 9, 10 piani perché secondo me più avanti andrà in questo modo e poi posso tranquillamente sbagliare ma ho i miei dubbi ho i miei dubbi ragazzi andando avanti giustamente aumenterà la situazione ed è giusto che sia così ci mancherebbe credi di infastidirmi se credi di infastidirmi secondo me sei messo veramente male molto molto male sei messo malissimo bello stai calmo stai calmo stai calmo ancora ok via e adesso chiudiamo in bellezza ragazzi chiudiamo in bellezza come sempre come sempre no ma come questo gameplay perché da qui ho iniziato a fare le mie super fatality eh wins sì terzo piano via cosa ho ottenuto 100 monete coronte ottimo mi piace ci piace dico che mi piace va bene così andiamo 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 benissimo molto molto bene sì cos'è cosa si è inventato lì cosa si inventa reazione è ben giustamente ecco questa mossa qui mi da un po' fastidio perché scompare e vabbè diciamo che fa perdere tempo però la gestiamo e la possiamo gestire tranquillamente e adesso e adesso che testata ragazzi che testata andiamo ma queste fatality vanno in un certo modo eh in un certo granché diciamo eh vabbè eh subzero wins via ultimo piano della torre ragazzi speriamo bene ultimo piano della torre si spera bene voglio ben sperare poi non so eh non so io voglio solo ben sperare cosa vi devo dire cosa vi devo dire vediamo un attimino vabbè lo possiamo gestire questa battaglia si la posso gestire ragazzi non è non è impossibile diciamo ecco non è impossibile ah bene non l'ho beccato ragazzi e purtroppo non l'ho beccato ma adesso penso di sì eh e adesso cosa vuoi fare ciccio ah ok fantastico fantastico e si chiude alla grande si chiude alla grande ragazzi come lo vedo messo male come l'ho visto messo male ah ah l'ho visto messo malissimo componente comune perla edeniana vabbè crediti stagionali 100 oggettoni e monete coronte il gameplay ovviamente lo chiudiamo qui ragazzi lo chiudiamo perché abbiamo fatto abbastanza eh abbiamo fatto veramente abbastanza ma qui ok qui possiamo aprire sì possiamo aprire ma apriremo nel prossimo episodio eh sì ragazzi lo so sono un po' balordo guardate qui quante ne ho ottenute questa cosa fa danni parati in salute danni in vita vabbè lo vedremo nel prossimo episodio qui cosa abbiamo questa resistenza fisica ok resistenza alla magia aumentata no la resistenza fisica è importante eh prima di chiudere questo episodio ragazzi faremo una cosa tornerò giustamente nel menu principale anzi prima voglio vedere una cosa voglio vedere perché qui abbiamo sbloccato quest'area ma voglio capire se anche qui ci sarà da combattere secondo me sì il portale è un ambiente instabile in continuo cambiamento pieno di torri scopi le torri orarie giornaliere settimanali e stagionali attraverso il portale a a a vabbè al momento non ci interessa ragazzi al momento non ci interessa quindi menu principale allora torneremo un attimino qui sicuramente faremo qualcosa in anche lì ma adesso mi devo occupare di finire questa zona non me ne volete vai il menu principale farò una cosa e poi chiuderemo questo episodio andiamo ad extra vediamo un po' andiamo ad extra qui non ho capito cosa mi ha scritto vediamo un attimino extra a reliquiario e collezione proviamo proviamo un po' entrambi usa i gettoni per ottenere ricompense casuali proviamo mille crediti ragazzi mille crediti eh non è poco attrezzatura rain comune asta di vento e acqua tutto questo casino per ottenere quello vabbè proviamo la collezione arte combattente arte e scenari villa cage insomma musica e quindi ah qui però non posso acquistare qui ok vediamo un po' personalizza combattente cameo vediamo eh diamo un'occhiata insieme poi andiamo via poi andiamo via attrezzatura vabbè questa ce l'abbiamo già eh colori eh colori insomma vedete ok no è per far vedere cosa ho sbloccato ragazzi qui abbiamo anche le provocazioni bello e colpi fatali vediamo un po' zero assoluto e insomma ne abbiamo eh e le fatality brutality e fatality ok comunque ragazzi molto probabilmente nel prossimo episodio cambieremo combattente per andare avanti eh quindi il vostro Diablotex al momento vi saluta e vi ringrazio per aver seguito anche questo gameplay di Mortal Kombat 1 ovviamente modalità invasioni vi ringrazio di cuore a tutti vi chiedo sempre gentilmente se vi va eh per aiutare a crescere il mio canale insomma di condividere il gameplay lasciare un like un commento eh magari a chi non è iscritto se si vuole anche iscrivere giusto così eh per una gentilezza ecco grazie di cuore a tutti vi do appuntamento con i prossimi episodi che arriveranno molto molto presto ciao a tutti e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti